Si nasconde, cosa c'è cucciolone? Cosa c'è mamma? Eh? Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? Non c'ho niente, dai vai nel bosco, su, dai, vai, brava, ecco sì così, dai vai, vai giù, dai, vai nel bosco, su che poi la gente si spaventa, dai, vai nel bosco, su, vai, 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 vai nel bosco, dai. Su, vai dentro. Oh, ma guarda te.